benvenuti a tutto sport diamo un cordiale saluto a mario cotelli benvenuto mario è sempre un piacere averti in studio per fare qualche ragionamento sulle ormai imminenti olimpiadi invernali coreane allora entriamo subito nel merito proprio della location nevi asiatiche nevi alpine ci sarà davvero della differenza un contesto anche di campo di gara diverso allora io ho cominciato facendo le olimpiadi del 72 a sapore allora sono praticamente tutte stazioni vicino al mare tutte montagne vicino al mare che non sono protette da altre catene montuose e quindi il cambiamento meteorologico e repentino immediato può succedere di tutto può succedere che tu hai tre quattro giorni di bel tempo con neve bella dura neve che va bene e può succedere invece che ne vedi sempre ricordavo che a sapore nevica per fortuna di notte però abbiamo rinviato parecchie volte le gare poi quando sono andati a moriocca è stato a fare i campionati del mondo è stato l'unico caso in cui non è stato giudicato la medaglia d'oro del super g perché talmente brutto tempo che non c'era più spazio nel calendario e quando sono andati a nagano altra olimpiade negano 98 sempre stata così quindi mario nel bene o nel male a seconda dei casi spazio agli outsider no spazio alle condizioni condizioni meteorologiche condizioni al momento perché perché il vento c'è vento e faccia che ci sia il facile sia la nebbia come san morizio perché anche anche san morizio è sempre stata una stazione è facile che cambi la neve e adesso che si parte attenzione adesso si parte ogni due minuti anche in discesa quindi il quindicesimo o il ventesimo che sono i primi venti che sono praticamente il primo gruppo partono con 40 45 minuti di stacco uno dall'altro quindi in 45 minuti il tempo può succedere molte volte mario la fisi ha completato e ufficializzato l'elenco dei 20 atleti 11 uomini e 9 donne che comporranno la pattuglia azzurra una squadra che come osservavi poco fa è sbilanciata sulle discipline veloci dove peraltro abbiamo gli atleti più competitivi oltre ai soliti i nerofer paris e fil c'è anche marsaglia e buzzi quindi no sono cinque discesisti marsaglia e buzzi poi ci sono giganti siamo abbastanza deboli perché c'è solo eisat e mugl di fatto e tonetti che si è anche qualificato ma almeno ieri nella guerra di garmi si è andato piuttosto male slalom ne abbiamo due grosso e mugl questo qui è la tomba dello cittadiano perché si riduce a due atleti uno del che ha 36 anni che è mugl e l'altro che ce l'ha 34 che è grosso 32 sì ecco non hanno portato non hanno portato sala io l'ho portato sala hanno portato questo ragazzo vinazzo classe 99 pressoché digiuno di esperienza in copa ecco a proposito di carta d'identità Mario 6 uomini su 11 sono abbondantemente over 30 e anche fra le ragazze c'è una bella quota di 5 atlete su 9 che hanno passato appunto la trentina siamo ancora competitivi ma mancano i ricambi ma è il problema dell'uscita italiana in questo momento ma è il problema anche della mentalità dello sport italiano cioè se noi leggiamo anche i giornali leggiamo anche e vediamo anche l'atteggiamento del coni per esempio il coni sta puntando sulla cosner quella del patinaggio da 10 anni ma perché può dare una medaglia ma non si interessano se viene qualcuno dietro non si interessano al vivare questo è un po' il dramma dello sport italiano che è molto quantitativo e poco qualitativo ad esempio noi potremmo fare in Corea le olimpiadi più belle della storia perché nella velocità possiamo vincere sia negli uomini che nelle donne quindi portare a casa i risultati ma la domanda è e dopo dietro cosa c'è? ma alcuni non gliene frega assolutamente niente alcuni interessa vincere al momento poi dopo è come la storia i politici vogliono ottenere tutto il momento in cui lui sono sul trono e poi non c'è diciamo lo sguardo di lungo periodo esatto ecco medagliabili per entrare appunto nei nomi Mario chi vedi con le chance più più concrete di salire sul posto? Dominic Paris 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 non la dovrebbe sbagliare anche se è una pista abbastanza angolata se aumentano gli angoli ha un po' di difficoltà l'ho visto anche a Garmic è andato molto bene sul piano è stato velocissimo sul piano mentre invece quel barilotto dello svizzero Feutz sul piano che normalmente va forte sul piano ha preso 3-4-10 è andato più forte sulle curve e sui Nerofer continuano di inneggiare a questo ragazzo può darsi che c'è la faccia però ha sbagliato 3 gare di fila è caduto in 3 gare di fila venga chi sbuo le Garmic è come se a un certo momento il pilota numero 1 della Mercedes rompe i tre gran premi lo prendo e gli dico eh ragazzo cominci a ragionare quello che stai facendo poi alla fine mi sembra che le altre medaglie siano già prenotate dai soliti noti dai soliti noti che sono pochissimi il dramma in questo momento dello sci è che non c'è non c'è campione quando uno vince sette coppie del mondo di fila e poi in tutte le gare vince slalom e gigante e dietro c'è i soliti due che sono Christophs e una volta c'è come si chiama? Vintourot piuttosto che Vintourot vuol dire che non ci sono i cambi quindi la grandezza di Hirscher è ingigantita da una concorrenza minore Sofia Goggia diciamo genio e sregolatezza perché è una ragazza competitiva incline alle cadute beh quella ragazza lì un giorno gli è andata bene fino adesso io ogni volta che parte faccio gli scongiuri perché rischia troppo corre senza testa e se un giorno o l'altro se c'è la caccia ci lascia il segno e io secondo me a Cortina il colpo è stato più forte quello che sarebbe potuto sembrare perché è stata ferma 15 giorni poi si è presentata a dove correvano ieri le donne a Lanzeraide a Lanzeraide ha fatto tre porte esatto si è fermata quindi bisogna stare molto attenti bisogna anche disciplinarla un attimo più giudiziosa la Brignone che dà una certa garanzia la Brignone è la è la più grande gigantista velocista italiana di sempre ha avuto la disgrazia di avere una mamma salomista che vuole fargli fare l'osame è un'amica somestè lei deve fare gigante e velocità è super gi bravissima perché molla gli sci non li frena e poi con un po' più di testa di quell'altra dalla bergamasca grazie a Mario Cotelli grazie a voi per averci seguito in bocca al lupo agli atleti italiani valtellinesi e non impegnati ai prossimi giochi invernali